Il metodo Sauton è un approccio chetogenico molto speciale, unico ed equilibrato, che puoi seguire come uno stile di vita adatto alla tua vita quotidiana e che puoi personalizzare sulla base delle tue esigenze. Ecco i sei motivi che lo rendono unico e adatto a sostenerti ogni giorno. Primo, hai il giusto apporto proteico, non troppe e nemmeno troppo poche proteine, ma la giusta quantità adatta a te e sei aiutato a prenderle ottimizzando sazietà, assorbimento ed evitando tutti gli effetti collaterali possibili delle proteine. Secondo punto importante, hai il giusto apporto di carboidrati, fibre, vitamine e minerali per nutrire il tuo corpo e il tuo microbiota intestinale e favorire la tua capacità digestiva grazie al giusto apporto di vegetali cotti in modo delicato così da preservare tutti i benefici. Terzo punto importante, hai il giusto apporto di grassi, non il 70% come nella chetogenica estrema non adatta alla vita quotidiana, ma il 50-55% e scopri le migliori fonti in grado di garantire la longevità di tutti i tuoi sistemi interni, ormonale, immunitario, metabolico e nervoso per sempre. Quarto punto importante, se guidato nella transizione con un avvicinamento graduale che puoi calibrare sui tuoi tempi effettuando sempre i passi giusti senza più dubbi. Quinto punto importante, puoi contare su uno speciale periodo di detox di soli 28 giorni, il più profondo che esista in grado di farti ripartire alla grande e di liberarti completamente dalle tossine con una speciale guida che ti sostiene ad attraversare i sintomi di adattamento e diventare un perfetto bruciatore di grassi. E infine, ultimo punto, ti riporta poi alla vita normale, diventando metabolicamente flessibile, libero dal timore del peso, non solo, ma ti consente di personalizzare l'approccio sulla base dei tuoi gusti, dei tuoi ritmi di vita, della tua età e dei tuoi obiettivi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!